Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Sono in compagnia di mie moglie e della gattina Morgana. E stasera giocheremo la prima avventura, delle due di partenza tutorial che ti insegnano a giocare, della campagna alla missione del re dei nani di Dungeon Saga. Quindi questo è proprio il primo gameplay ufficiale che porteremo sul canale. Allora, nella prima missione, gli eroi scelti appunto perché è una missione di partenza, si chiama Viaggio da Occidente, è una missione tutorial e come vedete nella missione principale ti dà gli eroi che possono essere utilizzati. In questo caso sono il nano, che si chiamava Rordrin, e il barbaro che è Orlaf. Non ci sono maghi, quindi i set di carte che abbiamo messo qua su in cima, delle carte che abbiamo messo qui, questo è il mazzo generale Lord Supremo e io ho già fatto il mazzo per come il setup di questa missione mi ha detto. Quindi qui ci sono le 12 carte che io come Lord Supremo, Dungeon Master classico, andrò a pescare. Carte oggetto l'abbiamo messe ma non ci sono perché non ci sono scrigni da allutare e Dungeon Saga, almeno che non usate il compendio dell'avventuriero, non è come Iro, questa c'è, cerco nella stanza, c'è qualcosa? Puoi cercare in una stanza se c'è ad esempio uno scrigno o una cosa del genere. Può cercare negli scrigni solo se c'è fisicamente. Quindi se lo vedete vuol dire che qui c'è un'azione di ricerca, se no in tutti gli altri casi non c'è niente, non è come Iro, questa cerco passaggi segreti, trappole e quant'altro. Mazzo degli incantesimi, ma ancora una volta non lo usiamo perché ci sono soltanto Hernano e il barbaro. In fondo mazzo delle abilità che anche questa è una cosa messa a parte che verrà più avanti. Nella prima missione, ora poi ti leggo un'introduzione e tutto quanto, questo è il mio mazzo, ok? Che all'inizio devo pescare 3, non te le devo far vedere, quelle sono le mie carte che ti posso usare contro. La tua missione è di arrivare ad aprire questa porta e andare via, per arrivare nel prossimo livello del dungeon. Quindi ti devi arrivare qua giù in fondo e aprirla. Il regolamento di Dungeon Saga vuole che ti muovi di quante è il valore di movimento del tuo personaggio, quindi di 7 lui e di 6 il nano che è un pochino più lento, no? Quando, ricordati come Space Hulk, quando ti muovi lo puoi fare una sola volta per movimento, quando ti muovi devi decidere anche il fronte, lo puoi girare anche di 3,60 lo minano, no? Però ricordati che lui fronteggia su davanti, ok? Nelle caselle adiacenti e anche quelle laterali, però sulle caselle posteriori chiunque ti attacchi lì dietro ti dà meno una difesa a te, ok? Perché ti ha presa alle spalle, comunque ti difendi. Quando entri nel campo di guardia di un nemico automaticamente fermi il movimento, perché devi combattere se hai entrato nel campo, se passi di qui no, capito? Però se passi di qui lo fermi, ricordati sempre il fronte. Cosa importante, hai soltanto due azioni per turno e non possono essere due volte la stessa, come HeroQuest. Movimento attacco. Se hai già fatto l'attacco ti puoi muovere, se hai già fatto l'attacco e puoi fare un altro attacco non lo puoi fare, capito? Come HeroQuest. Le ferite sono quelle segnate lì, quando rimangono solo ferite rosse il tuo personaggio è meno amato. Te vinci aprendo questa porta, qua giù in fondo, io vinco incapacitare uno degli eroi. Quindi se uno dei due te lo butto in terra, però c'è una cosa bella in questo gioco a differenza di HeroQuest che secondo me è meglio qui che HeroQuest. E guarda, oh, per dire una cosa del genere io, che per me HeroQuest è il gioco più bello del mondo, su HeroQuest se un mostro ti fa due ferite, no? E te non riesci a pararle, quante ferite prendi? Due, ovviamente. In questo gioco se un mostro ti fa due, tre ferite, una cosa del genere, e te non riesci a pararle, te ne può fare una sola al massimo, capito? Quindi tutti i danni che subisci, un eroe non può mai subire più di un danno a volta, capito? Perché sennò si morirebbe troppo facilmente. Se un mostro ti fa quattro ferite, già fai ciao, capito? Invece qui no, un mostro ti può fare al massimo una ferita a volta, tutti gli attivati vanno scartati, te e i mostri, ah, i mostri normali, questi schifi, se entra in campo un boss o un eroe, come quelli che ci sono nel gioco, quelli no, picchiano normali come altri personaggi. Voi eroi potete fare quanti danni volete invece a mostri? Se ne fai cinque su cinque, i mostri schifosi così te ne fanno uno soltanto. Ora, vabbè, token che poi useremo di qua è tutto, e ti leggo l'introduzione dell'avventura. Ti ricordo che ti devi aprire con la porta laggiù, quindi... Ah, scusa, no, non te le do nemmeno, questi qui sono, sì, i misuratori, gittata corta e gittata lunga, ma tanto non c'è nell'elfo, nel mago, quindi... Ok, allora. Le labbra del necromante si mossero senza emettere suoni, mentre accarezzava le intricate rune e i simboli magici impressi sulla porta. Non impugnava una torcia, non grazie al bagliore che si propagava dalle rune mentre venivano sfiorate, ma poiché da tempo aveva smesso di aver bisogno della luce per vedere. Era così assorto dall'incantesimo così desideroso di accedere alla stanza e proseguire nella ricerca che quasi non se ne accorse, un disturbo a livello superiore della fortezza. Qualcosa, anzi qualcuno, era entrato, e indovina un po' chi. Emise un verso stittite di incanalono incantesimo, scrutando con la mente tra la polvere delle ere e dei triti di battaglie passate. Ecco, sfruttando i suoi poteri, diede una scintilla di non vita alle osse che giacevano a terra, quindi a rianimate morti, no? Ah, questi qui sono cumuli di morti, che io posso usare per far sponarci gli scheletri, no? Io ho soltanto due comandi per turno più l'azione di una carta, quindi io, anche se ho 20 mostri, ne posso usare soltanto due, capito? Almeno che la carta non mi dia altre azioni. Tornò alla porta non appena conclusa il lancio dell'incantesimo, convinto di essersi praticamente già sbarazzato di chiunque fosse stato talmente sciocco da addentrarsi nella fortezza e distrarlo. Aveva uno scopo decisamente più importante della vendetta. Ciò che sto dicendo è che avresti potuto aspettare un attimo e l'avrei aperta. Il barbaro, siete voi praticamente, replicò con un brontolio, come era sua abitudine. Stava iniziando a fare innervosire Rordrin. I nani non sono famosi per le loro doti oratorie, ma quella situazione era paradossale. Si guardò intorno. La sala d'ingresso principale per Dolgart era in rovina, addornata da strati di polvere e detriti sparpagliati si atterra durante le ere passate. Un fruscio proveniente dall'oscurità tirò la sua attenzione e gli fece sollevare la torcia, per vedere quale fosse la sua origine. Le fiamme illuminarono due orbite vuote su di un tischio sogghignante che si stava avvicinando a loro. Ossute dita impugnavano una vecchia spada arrugginita ed una corazza in cuoio malconcia pensolava dal busto. Bene, sembra che abbiamo compagnia. Inizia l'avventura. Tocca a te. Ricordi sempre, movimento e... La tua missione arriva laggiù. Quindi ragazzi, questa è una missione che durerà poco, almeno che... È una tutorial. Sì, però è una missione tutorial. La seconda è già discretamente più lunga. Puoi muovere chi ti pare. Però prima uno con l'altro, ovviamente. Vado su Rordin. Però aspetta, non ho letto l'abilità di Rordin. Una sola volta per partita non può essere ferito per essere delle lonti. Gli serve nemici adiacente a Rordin e si considerano come se avessero già svolto il loro turno. E non potranno competere... Praticamente colui è come se avessero già svolto il turno e glielo fa saltare. Sì, però ricordate che sono abilità uniche. Una volta per avventura. Perché sono potentissime. Mentre lui dovrebbe fare un attacco che becca anche dietro. Reggila, cosa dice? Attacchi separati a quattro dadi contro ogni nemico adiacente. Inclusi nemici nel suo arco posteriore. Anche quindi nemici dietro. Quindi dovrebbe fare tipo un... Sì, si fa un attacco a dare. Sì. Allora, Rordin. Muovo lui, posso muovere di sei, quattro danni. In questo gioco ci si muove sia anche in diagonale, va bene lo stesso. Aspetta. Sei di movimento? Sì. Uno. No. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Ok. Lo fa andare lì e il verso che guarda è questo qui. Ok, vai. Fa qualcos'altro? No, perché cosa vuoi faccia? Un po' nemmeno attacca un po' fa... Questo movimento è in diagonale, giusto? Sì, sì. Ma non lo vado attaccare quello lì? Poi vi piglia le spalle, eh, dopo. Eh, lo so. Ma non è che non voglio attaccare, voglio vedere un po' come fa. Se io voglio muoverla così, la miniatura, c'è con azione? No, ti puoi girare una sola volta nel tuo turno di movimento. Uno, due, tre e giro. Ok, fine. Ora, ecco, forse ragazzi, Dungeon Saga è bellissimo, però li potevano fare a incastro. Io ti giuro, anche lì, se gli ho dato un puntino in meno, perché guardate come si muove, cioè non va toccato, eh. Potevano farci come Bellormidescent, potevano farci a incastro. Sì, puoi anche attaccare. Allora, il combattimento, facciamo una cosa, a sposto, tiriamoli sempre qui, almeno si vedono anche a favore di... Tanto queste qui le devo levare, perché sono mie. Anzi, fotocamera e telefonino. Fotocamera. Allora, lo scheletro che vai a fronteggiare, che è uno scheletro guerriero, ha armatura 2, ora ti faccio vedere Bellino, e tira 2 dadi, ok? Quindi te ne tiri in combattimento? 5. 5. Allora, tira i tuoi 5 dadi qui. Allora, tutti quelli che hanno fatto 1 o 2, levali. Perché è armatura 2, quindi ti devi fare 3 o più per colpirlo. Quindi questi 3, via. Sì, perché te devi fare 3 o più. Hai fatto 6 e 4. Ora vediamo io quanto faccio. Io tiro, ho fatto... 3 e 5. 3 e 5. Allora, il tuo più alto... Va con quello mio più alto. Il secondo tuo più alto va con il secondo mio più alto. Quindi, sei più alto di 5, quattro più alto di 3. Hai fatto due ferite e le scheletrine Bellino, perché con un colpo una ferita non le fa niente. Tipo lì si conficca nelle ossa o una cosa del genere. Con due colpi, l'hai ridotta in pezzi e guarda che figata c'ha questo gioco. Lui lo levi, l'hai distrutto. Però, guarda, ganso. Lo metto qua, eh? Sì. L'hai ridotta a un cumulo di ossa e io posso usarlo per invocarci nei arti lì dopo. Cioè, è bellina? Fine del turno, perché... Fine del turno, perché è finito. Il gioco è tutto qui, eh? Fine. Tutte le regole del gioco sono qui. E le porte, uguali. Finito. Allora, io pesco 3 carte del Lord Supremo, che ora è il mio turno. Io ora ho 2 azioni, no? Quindi posso usarne 2. 2 comandi, più posso anche usare una carta, qualsiasi. Quindi, vediamo un po'. Io direi che faccio. Ovviamente una volta... Ah, stai attenta, quando finisco il mazzo ti c'è l'ultimo turno, eh? Però tanto posso pescare una volta, quindi c'hai 12 turni per finire. Allora, vediamo un po' questa qui. Io uso questa e la scarto. Animare morti 2, ok? Io nelle mie azioni del mio turno, che c'ho, come ti ho detto, 2 comandi, posso o muovere loro e farti attaccare, oppure posso usare comandi per evocare morti, ok? Quindi cosa vuol dire? Se io uso 2 comandi per evocare morti, non posso muovere quell'altro. I morti evocati non possono fare nient'altro che stare fermi. Il necromante può lanciare, il necromante può animare 2 mucchi d'ossa in aggiunto ai comandi che gli sono consentiti. Quindi, io faccio una cosa bellina. Uso un'azione di quelle mie dei comandi per mettere un morto qui, no? E i morti che vengono evocati possono esserci massimo in campo scheletri guerrieri. Ok, 4, 4 scheletri guerrieri come massimo. Allora, quello lo rimetti lì un'altra volta. Però non mi... Ora ti faccio vedere. Non entra il combattimento. No, 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 quando li evochi hanno perso il turno, sennò era troppo forte. Eh, ok. Poi, qui, leviamolo, perché ci hanno altri 2 da evocare. Qui ci evoco un qualcosina di più bellino. Quello e qui, visto che è il terzo, ci spono. Ci spono... Ce n'era più di uno d'arciere, fammeli trovare soltanto. Eccolo qui. Ci spono un altro scheletrino. L'unica limitazione che ho è che posso avere massimo 4 guerrieri scheletri. Quindi quante ce n'è? 1 e 2. 3 e 4. Basta, non ne posso più evocar. Ok. E questo così l'ho evocati. Ora però c'ho l'ultima mossa, perché c'ho l'ultimo comando da usare. E faccio 1, 2 e ti arriva in corpo a corpo. C'ha 4 in movimento. Però tira soltanto 2 dadi. Te ti puoi solo difendere. Tira 2 dadi d'attacco. Quanta è la tua armatura di Rordin? 4. Quindi soltanto i 5 o più colpiscono. Quindi questo è automaticamente scartato. Te quanti dadi hai di combattimento? 4. 4, tirare tutte e 4. Tutte e 4. Quindi il tuo più alto con il mio più alto. No, non le devi mai levare, ah? Mi hai detto che devi levare. No, no, ma ti stai difendendo. No, no, non le devi mai levare quando ti difendi. Allora, il tuo più alto è 5. Il mio più alto è 5. Se equivalgono, quindi non ti ho fatto niente. Il blu è mio. Fine del mio turno. Ho giocato una carta, ne pesco un'altra. Vai, tocca a te. Quindi questa è la situazione. Ah, te puoi, no, disingaggiare da un mostro solo se ti allontani. Non gli puoi rifinire un'altra casella in contatto. Cioè, se te da qui ti vuoi spostare qui, no? Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Sì, però becchi un attacco di opportunità. Perché stai provando a scappare. Provi, io lo ammazzi. Cioè, se ti allontani dal corpo a corpo, mi dai un attacco gratuito. Perché io provo a colpirti mentre scappi. No, ma hai ingaggiato automaticamente, anche se l'hai evocato. Sì, ingaggiare sì, però non ti ho attaccato, non l'ho mosso. Quindi ti attacchi prima. Appena evocati non attaccano, però ti ingaggiano. Quello sì, ma non ti fanno danno. Ti tengono fermo e basta. Ok, quindi attacco di opportunità mio. Tirano sempre due. E l'armatura sua è? Due. Quindi questo niente, tre. E ti tiri sempre i tuoi soliti cinque per difenderti. Ma già, perché il tuo più alto è sei, il mio più alto è tre. E ci ha vinto. Quindi attacco di opportunità, ma non ti ha fatto niente. Quindi, ora, non lo muovere così subito. Ti hai detto che volevi andare via, no? Volevi andare qui. Ok, ora fai il tuo movimento e vai dove ti pare. Fallo tutto. No. Fino a sette, uno, due, tre, quattro, cinque. E ora vai tu. No, quattro e ti devi fermare qui. Perché sei nella sua area, vedi? Sei in diagonale. No, non lo puoi fare. No. Perché sei entrato nella sua area. E, tra l'altro, puoi arrivare massimo fino a qui perché entri nell'area di effetto di lui. Capito? Però ora c'è un vantaggio. Perché sono assieme all'altro. Arrivi lì e ti fermi. Quando ti attacchi, visto che siete in superiorità numerica, lui si difende con meno uno. Ok, perfetto. Allora, io l'attacco. Almeno vediamo se non ho detto una cavolata, ma mi pare proprio così. Sì. Sei scappata e fa un attacco. Quindi il barbaro tira. Cinque dadi, ricordati che con tre o più, colpisci. Cinque, 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 cinque. Tutti? Boh, ha fatto un buonissimo. Tutti. Cosa tira a fa? Tiro per bellezza, però. Meno uno però tira, eh. Meno uno? Ah! Non si può mai tirare meno di due dadi in difesa, no? Quindi ne tira comunque due. Perché non se ne può tirare mai meno di due. Però tutti quelli successivi, che non puoi levare dalla difesa, si levano all'armatura. Quindi l'armatura ci avrebbe due, scala uno. Quindi scalando a uno, armatura soltanto uno. Quindi anche due o più andavano bene, ma va bene lo stesso. Tiro praticamente il mio più alto. Allora, ti faccio vedere. Questo è il mio secondo tiro di daddo, no? Il mio più alto un sei. Il tuo più alto un cinque. Quindi questo qui te l'ho annullato, ok? Il tuo più alto un cinque. Il mio più alto un due. Ok? Secondo più alto. Quindi già questa è una ferita e questi sono tutti buoni. Quindi mi ha fatto quattro ferite al guerriero. E con quattro ferite lo distruggi soltanto e non ci rimane un mucchietto ad ossa. Perché l'hai polverizzata. Quindi, fatto. Aspetta, il barbero l'ha fatto, puoi toccare al nano. Toccare al nano. Nano si muove di sei. Sì. Faccio uno. Però mi ingaggia l'altro. No, no, no. Sempre, sempre. No, se non li passi sulla casella davanti o laterale, no. Due. Tre. Poi dimmi te. Vai. Quattro. Vai. Cinque. Cinque. E attacchi lui. Sì. Ok. Attacca lo scheletrino. Sempre tre o più. Sì, questo hit lo levo io. Vabbè. La prima missione è proprio una bagianata. Allora, l'uno e l'uno levali direttamente. Ok. Quindi. Cinque batte il tre. E quattro batte il due. Due ferite. Lo scoppi. È cambiato il dado. Sembra che... Sì, lo scoppi, però qui ci rimane il coso. Ok. Fine turno. Tocca a te. Fine turno tocca a me. Ora io ho due comandi. Due comandi e posso giocare una carta. Allora, col primo comando che faccio, evoco un morto qui. Quindi questo lo levo e ci metto tanto uguale, non cambiano niente. Ok? Così te lo rioingaggiato un'altra volta. Non lo posso muove, però te lo ho ingaggiato. E quindi uno dei miei due comandi l'ho usato. Però uso la carta due comandi extra che mi dà due comandi in più. Quindi ho ancora tre comandi. Allora, col primo faccio uno, due con lui e ti attacco. Sono stavolta io in sua priorità, quindi ti hai meno uno a difenderti, ricordati. Tiro questo qui e faccio... Cazzo, lui però ha una tua quattro. Niente, non tira a niente. Perché non sono riuscito nemmeno a passare l'armatura. Era il primo comando. Col secondo comando giro lui così e... Meno male dicevo non serviva la gittata. Gittata lunga ci sono. Quindi tiro su lui e l'arciere tira... Gittata lunga. Tre dadi. Tre dadi e devo fare tre o più. Ti sei benedetta dagli dei. Niente, quindi il secondo comando fottuto però... Ha beccato praticamente vuoto. Uno, due, tre. Qui viene in corpo a corpo e ne tira due. Però io mi difendo con un dado in me. Esatto, oh, esatto, infatti. Guarda, solo questo è entrato. Sei, sei, annullato. Perché sei il tuo più alto e sei il mio. Quindi annulla. Allora ha fatto... Ora ti è ad attaccare e non hai malus. Avresti malus solo a difendere. Giusto? Sì, e ha finito il movimento. Attacco lo scherettino dietro. Ok, quindi tira tutti i tuoi dadi. Leva l'uno, leva l'uno. E per il resto lui tira due dadi. Non tiro nemmeno perché tanto anche se li faccio buoni me l'hai scoppiato. Perché due ferite sono entrate, capito? Anche se faccio sei e sei e te li levo. Però dè, l'altro sono entrati. Ho scoppiato ma non lo lascia neanche i cumuli di ossa. Sì. Perché l'ho depolverizzato. Ah no, è vero, è per quello che devo tirare. Come sono scemo. Vedi, vedi come sono scemo, bravo. Perché se li fai una ferita, niente. Due ferite diventa un cumulo d'ossa. Tre ferito più lo scoppi. L'ho fatto bene a dimmelo. Vai, distrutto. Completamente e non ci rimane niente. Fine del barbaro. Ok. Però posso rigirarlo? No. Perché hai finito l'azione in movimento. Ricordati l'azione speciale, eh. Se la vuoi fare, come ti pare a te. Però sia chiaro... A nano sì, glielo faccio. Basta aprirla questa qui, eh. Sì, sì. A nano glielo faccio. Praticamente faccio perdere un turno a quei due lì. Tutti quelli in corpo a corpo perdono un turno. Leggi un po'. Può essere ferito per il resto del rano. Non può essere ferito per il resto del rano. Tutti i seri nemici adiacenti. All'ordine si considerano copi se avessero già svolto il loro turno. E non potranno coprire nessun'altra azione. Praticamente nel tuo turno. Loro hanno già fatto il loro movimento. Ok. Allora, loro sono bloccati. Ti cosa fai? Io adesso attacco. Lui davanti a me. Ecco, perché se ti dicevo... Se comunque provi a spostarti, andai via... Ce l'hanno all'attacco, eh. No, no, no. Attacchi quello davanti. Vai, attacca quello davanti. 3, 1, lo tolgo. 1. Boh, non mi ricordo mai. 1. Loro sono in superiorità. No, ti danno meno una al coso. Allora. Ma qui devo tirare a 3. No, 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 no. Perché quando ti attaccano loro. Allora, il tuo più alto è 5 e il mio più alto è un 6. Il tuo secondo più alto è un 4. Allora, questo te l'ho annullato. Questo ha preso e questo ha preso. Ok. Quindi lui è morto, però lascia un cumulo. Ti potresti ancora muovere, perché hai attaccato soltanto. Ti puoi ancora muovere? Sì. E se vai qui, becchi l'attacco di opportunità, perché cerchi di scappare e lui ti attacca, però lo puoi fare. Se hai fatto il diagonale a sinistra, come fai a prendere l'attacco di opportunità? Perché te, prima, te comunque li sei in corpo a corpo. Te fai conto che durante una sfida, se te provi a scappare, uno ti dà un pugno da dietro. Muovimi lì. Dove? Qui? E faccio cosa l'attacco di opportunità? Allora, prima facciamolo. Lo fa lui. No, no, lui non devi fare 3, devi solo parare. Ok. Quindi lui tira due dadi. Sì, vabbè. Vai, non devi tirare nulla, tanto. Lo faccio solo per la telecamera. Dai, qui, come ti vuoi girare? Di qua o verso la porta? No, verso la porta. Cavola lì, poi, eh. Sì, sì, vai dai topo. Fin. Ah no, devi fare tutto il tuo movimento. Ah, punto. Qui? Arrivi qui? Ok, basta. Per aprirla dopo la devi sfondare. Ah. È come un combattimento. Praticamente la porta a tirare... Sì, ma hai detto che io ho fatto la mia cosa e tu non lo puoi... Quello è fermo. Sì, questo è fermo. Tutti i nemici lì, agli accenti sono... Sì, ma tanto anche se li evoco, quelli evocati non possono fare niente. È vero, è vero. Quindi, ok, nuovo turno, cioè, scusa, nuovo turno, turno mio. Ok, uso questa carta, comandi doppi, quindi posso fare quattro comandi, no? Che non mi servono a un cazzo, perché ho anche sbagliato. No, no, però aspetta, no, comandi doppi no, invece mi serve. Allora, qui, qui ci evoco un coso. Uno scheletrino, girato così, no? Che ti ha ingaggiato da dietro, ok? Però non può attaccare. Poi, qui ci evoco uno scheletrino, che non può fare niente. Ho ancora due comandi e faccio... Uno, due, tre, e ti tiro. Quindi per tirarti... Quanto c'avevano? Tre, mi sembra tre. Mi sembra matura quattro. Sì, è quello il casino. Tre dadi. Quindi vai, te c'è quattro. Quindi passa solo il cinque o più, c'è uno solo. Vai c'è cazzo. E no, ti attacca alle spalle, quindi uno o meno. Ah. Vabbè, leva l'uno, vai. Leva l'uno, quindi il tuo quattro... Viene annullato. Non ce la fa. Lo vedi? Qui me la passi uno. Quindi, eh, perché praticamente il mio, il mio unico risultato, no? Non è stato fermato, ok? Quindi dovevo prendere un colpo. Non è stato fermato, quindi in questo caso qui la ferita è entrata, ok? Quindi si è messa un punto ferita lì. Ok, niente, basta. Più alto, più alto è quell'altro. Perché nella difesa è all'inverso. Allora, questo qui... No, aspetta, c'ho ancora l'ultimo coso. Lui, tanto ci arriva. Sì, sì, non c'è neanche bisogno. E ti attacco il barbaro, quindi sempre tre. Però non te l'attacca alle spalle, quindi difendi con tutti. Tre, sei! Qua puttana! Ragazzi, il diavolo di Umono, gli Iron Maiden, 666. The number of the beast. Allora. Uno te lo paro. Uno me lo pari. Due per niente. Due entra e tre entra. Però ne può subire solo uno a volta, quindi ha subito un punto ferita. Yeah! E ora ti faccio vedere il sangue. Pesco carta e tocca a te. Allora, giro e vado fino a lui. Vai, attacca il piglio alle spalle. Quindi prendendolo alle spalle lui tirerà. Aspetta, c'ha due dadi, quindi non gliele puoi levare perché sotto i due non si va. Ne tira comunque due ed armatura c'ha uno. Non gli fai niente di strano. Quindi tira due dadi. Tira di schifosi sto facendo io. Armatura uno, quindi valgan tutti. Valgan tutti. Lui c'ha armatura. E gli skype c'hanno meno armatura. Quindi il mio 6. Para uno. Para uno. Quindi il tuo 4 e il mio 3. Quindi gli ha fatto una ferita, due, tre, quattro e lui esplode e non lascia mucchi. Vai. Muccoli sì. Muccoli sì. E niente, sono mossa, ho attaccato, adesso tocca al nano. È andato via il cuoricino, eh? Ah, è qua. Ti sei mossa, hai attaccato, ora tocca al nano. Nano sfonda la porta o attacca quello lì? Attacca quello lì. Gira a mano verso quello lì. Se sfondavi la porta avevi vinto la partita, eh, però. Eh sì, ma sembra di fare continua a sponare. Se ti sfondi la porta in questo turno hai vinto l'avventura, ti dico solo questo. Eh, prova a sfondarmi la porta. Eh, perché, scusa. Facci lavorare il barbaro con noi. No, ma io avevo pensato se devo aprire la porta. Allora, la porta ha armatura 3, quindi... Ma sono eroi che vanno alla porta per vincere la porta. Sì, sì, in questa, in questa, no, ma in questa qui, nell'altra avventura è col cazzo, in questa introduttiva. Con quanti dadi? La porta si difende con 3. E ti tiri i tuoi soliti, di sempre. Quelli del nano, vatti c'è na. 4. Vai. Solo quelli col 4 più, eh. Sì, 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 tutti io. E cosa tiro? La porta è rotta. Ho vinto! Distruggi la porta, apri praticamente le cose. Allora, l'ultimo scheletro cade sotto i possenti colpi dell'ascia di Orlaf, mentre il barbare mise un ruggito di soddisfazione. Rordin, senza alcune esitazioni, colpì con forza il teschio frantumandolo sotto i suoi pesanti stivali e riducendo i frammenti in polveri con il calcagno. Quelle cose non andavano giù facilmente e voleva assicurarsi che nessuna di esse potesse rialzarsi nuovamente. Orlaf ispirò profondamente e diede un calcio a un arto smembrato che si trovava accanto a lui. E adesso? Prossima avventura, questa era viaggio da occidente. Prossima avventura è viaggio da oriente, non la guardare qui se no te la rovini. È molto più grande il dungeon e la prossima volta userai il mago e l'elfo. A lei e non spoilerarla. Comunque la seconda sarà già discretamente più lunga, come potete vedere, spero si veda. E giocheremo tutto. Quindi la missione del re dei nani, tutte le avventure di base del manuale le giocheremo. Poi se ci prende bene e vorremmo anche andare avanti, qualcuna nuova te la creo io col compendio dell'avventuriero. Comunque fateci sapere cosa ne pensate e dai, secondo me è un bel gioco. Va un attimino padroneggiato per il fatto dei dadi, ma ragazzi è veramente una stronzeta. Ciao, alla prossima. Ciao.